pensavate che fossi scomparso è che avessi mollato tutto no sono ancora qui il canale non è morto ho aspettato un anno più di un anno e per vedere come 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 dire l'evoluzione di tutto del mondo tutto il mondo della rasatura e devo dire che fa abbastanza schifo sono spuntati dei soggetti che mi vien da pensare ma questi la vergogna la conoscono tremendo poi di che vogliamo parlare dei prezzi che salgono alle stelle ormai 110 grammi di qualsiasi sapone siamo sull'urlo dei 40 euro non puoi più comprare niente a meno che non sei semi milionario ma dai ho mollato per per un anno e più devo dirvi la verità mi ero proprio rotto le palle veramente rotto le palle di quello che vedevo di quello che sentivo dei commenti di persone alquanto alquanto strane e poi mi sono reso conto che se non fai parte della combriccola non te caga nessuno e allora ho deciso di fermarmi per un po all'inizio pensavo avevo pensato qualche mese poi leggendo vedendo lo schifo che c'è sui forum ho detto aspettiamo un attimino dai vediamo se le cose migliorano peggio che c'è al peggio non c'è mai fine e quello che ho visto che ho letto me ne ha dato una la conferma uno schifo comunque parte questo piccolo sfogo voglio comunque ricominciare per pura passione io non sono sponsorizzato da nessuno e manco me ne frega niente di essere sponsorizzato le cose me le compro e dico quello che penso se ci avete fatto caso i primi video ero un po un po teso un po emozionato adesso non me ne può fregare di meno quindi dico quello che penso se non se non vi sta bene ce ne stanno tanti di canali quindi lo faccio per pura passione e per rispetto di quei 157 157 followers che magari stanno aspettando un mio nuovo video per il resto come ho detto prima non me ne può frega di meno con questo vi saluto rimanete sintonizzati e spero di tornare a fare qualche video ok ciao